Sindaco, ha scritto alla Regione per la vertenza idrica a Favar? Sì, ho proprio inviato stamattina una nota al Presidente della Regione, al Prefetto di Agrigento, all'Angi Sicilia, al Lato Idrico e a Girgien di Acque, a cui chiedo un incontro per fare il punto sulla drammatica situazione che sta vivendo il nostro Comune in ordine al taglio delle prese che sta operando Girgenti Acque. Abbiamo chiesto al Presidente della Regione con questa nota di convocare con urgenza una conferenza di servizi alla presenza degli enti coattestè nominato, proprio perché ormai siamo in una situazione drammatica, c'è il rischio serio di turbamento anche dell'ordine pubblico, è opportuno adesso che ci sia un incontro che affronti e chiude in maniera definitiva questo problema che diventa sempre più grave nella nostra città perché si tratta assolutamente di cittadini i quali non possono per problemi economici pagare cinque anni tra l'altro che sono stati inviati a Costoro per quanto riguarda il canone Acqua.